Nel silenzio generale arriva a Taranto il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi. Renderà visita alla locale sezione dell'associazione di categoria. Terrà battesimo il suo nuovo reggente, Salvatore Toma. Colpisce la tempistica di questo passaggio in Riva Loionio del numero 1 di Viale dell'Astronomia. Proprio ieri, infatti, un'impresa storica dell'indotto Ilval alla Caita ha reso esecutivo il provvedimento di licenziamento di 40 operai. Mancano le commesse di lavoro, i crediti scaduti vengono pagati quando vengono pagati a babbo morto. Non esiste una reale politica industriale che preservi il tessuto economico locale, ragion per cui meglio lasciar perdere e chiudere battenti. Molto presto altre aziende appartenenti allo stesso comparto produttivo potrebbero seguire l'esempio della La Caita. Il rischio di un'implosione dell'intero sistema che a cascata determinerebbe effetti sociolavorativi devastanti è ormai più che un cattivo presagio. Qual è il pensiero di Bonomi su quanto va delineandosi nella terza città del mezzogiorno penisulare? La sua politica fortemente sbilanciata verso le aree più a nord del paese è come si coniuga con le contraddizioni che esistono e resistono nei territori meno ricchi della nazione. Sono vere le voci di una confindustria locale che si è messa a far politica indicando ai propri iscritti quale candidato sindaco sostenere per le amministrative di giugno a Taranto? Ci piacerebbe rivolgere direttamente queste domande a Bonomi, conoscere il suo pensiero, se solo la stampa fosse stata invitata all'evento e la partecipazione, ampia e democratica, prevalesse su pratiche che ricordano le vecchie riunioni carbonare. La mascherina FFP2 resterà obbligatoria fino al 15 giugno a bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale a lunga percorrenza come treni, aerei, metropolitane, tram e bus e andrà indossata per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso, cioè in cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti. A definirlo un emendamento al decreto riaperture è approvato in commissione alla Camera che questa sera verrà inserito anche in un'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Prorogato fino al 15 giugno anche l'obbligo di mascherina al chiuso per i visitatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli ospedali alle residenze sanitarie e dagli hospice alle strutture riabilitative. Resta anche a scuola la FFP2 mentre non si prevedono misure per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all'aperto, anche se è possibile che l'ordinanza in arrivo conterrà una raccomandazione al suo utilizzo nelle situazioni a rischio. Al lavoro invece varranno i protocolli tra imprese e sindacato. Sono 69.204 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi in Italia, secondo il bollettino nazionale del 28 aprile, su 441.526 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 15,7%, sono 131 i decessi delle ultime 24 ore su tutto il territorio nazionale. 4.293 invece i nuovi casi covid emersi in Puglia, di cui 696 nel Tarantino, insieme a tre vittime segnalate. Dei 105.449 pugliesi attualmente positivi, 557 sono ricoverati in aria non critica e 23 in terapia intensiva. Nel 2021 in Puglia sono state registrate in media 85 denunce di infortunio sul lavoro al giorno, 97 morti per il lavoro e una crescita di quasi il 60% delle denunce di malattie professionali rispetto all'anno precedente. Sono alcuni dei dati resi noti dall'INAIL Puglia in occasione della giornata nazionale della sicurezza sul lavoro, che è stata anche l'occasione per presentare con la CGL regionale il progetto salute e sicurezza in edilizia e agricoltura. Sebbene ci siano segnali evidenti di ripresa economica, ci sono altrettanti segnali di disattenzione per il fenomeno infortunistico, affermato Giuseppe Gigante, direttore regionale INAIL Puglia. I lavoratori, aggiunto, sono da sempre chiamati a pagare il prezzo più alto delle ripartenze. All'indomani della denuncia da parte di alcune associazioni del territorio, tra cui genitori tarantini, circa la visita da parte di 20 alunni di un istituto scolastico ionico allo stabilimento Exilva di Taranto, giunge quest'oggi da acciaierie d'Italia la replica. Secondo le associazioni, nel periodo di stagio presso il siderurgico, la formazione prevederebbe una parte dedicata alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Se si vuole formare i giovani sull'ILVA, hanno spiegato, bisognerebbe tenere corsi sul rispetto della legalità. Ma l'azienda respinge le accuse precise in un comunicato. L'indice di frequenze infortuni dei suoi stabilimenti per l'anno 2020 è inferiore al 10 e rappresenta il dato più basso mai registrato nella storia dell'azienda ed un dato inferiore alla media globale rilevata annualmente dalla World Steel Associations. E' crisi per 40 lavoratori di una delle aziende dell'indotto di acciaierie d'Italia. La Lacaeta, durante l'incontro tenutosi nella giornata di ieri con i sindacati, ha confermato i 40 licenziamenti annunciati negli scorsi giorni. Secondo l'azienda metalmeccanica, non ci sarebbero i presupposti per evitare il licenziamento di ben metà dell'organico aziendale, dovuto soprattutto alla mancanza di lavoro e dei mancati pagamenti di acciaierie d'Italia. All'inizio dello scorso aprile, la Lacaeta aveva momentaneamente sospeso la procedura di licenziamento al fine di valutare se ci fosse la possibilità di attivare ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione o altri interventi come l'esodo agevolato e incentivato per i dipendenti in possesso dei requisiti. Al momento il personale di Lacaeta resta sospeso. Al via quest'oggi al Forum Taranto Turismo, nato per riflettere sullo sviluppo turistico di Taranto e di tutta l'area ionica, al fine di rendere il territorio una delle destinazioni turistiche smart, rappresentando circa il 10% del PIL, il turismo e la terza attività socio-economica dell'UE. Il turismo intelligente o smart risponde a nuove sfide e richieste in un settore caratterizzato da una rapida evoluzione di strumenti, prodotti e servizi, sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione ed eredità culturale. I primi segnali di questo mese, del mese che si va a chiudere in questi giorni, sono assolutamente positivi. Nonostante un contesto non semplice che viene, che segue e che è stato caratterizzato anche nei primi quattro mesi dall'un'emergenza sanitaria che ancora continua e che in aprile ha avuto un rimbalzo di contagio anche significativo, ma soprattutto da una situazione internazionale preoccupante, perché nell'immaginario dei viaggiatori, soprattutto ed oltre il continente, il conflitto è un conflitto europeo. Il tema della sicurezza resta comunque al centro della motivazione di viaggio e quindi ci preoccupano un po' e speriamo che venga chiuso prima possibile. In questo contesto assolutamente difficile la Puglia già in questi due anni ha saputo dimostrare una grande capacità di reazione, perché ha saputo spostare la strategia su mercati di prossimità, quindi quelli delle regioni italiane, ma anche quelli di alcune nazioni in particolare, penso alla Francia, al Belgio, ai Paesi Bassi, alla Polonia, che abbiamo saputo intercettare nonostante le restrizioni legate al Covid. Si è tenuta ieri sera al Teatro Fusco la consegna del premio Alessandro Leogrande, intitolato allo scrittore e giornalista Tarantino, scomparso prematuramente nel 2017 all'età di 40 anni. La serata si è incentrata sul ricordo di Alessandro e sulle nuove frontiere della narrativa d'inchiesta. A vincere il premio è stata Stefania Maurizzi con il libro Il potere segreto perché vogliono distruggere Giulia Nassance e Wikileaks. L'abbiamo sentita ai nostri microfoni dopo la vittoria. Non tutti i premi sono uguali, questo è speciale, perché la battaglia che c'è dietro per la giustizia credo che Alessandro Leogrande la condividerebbe e sarebbe parte di questa battaglia, per cui spero che questo premio contribuisca a salvare Giulia Nassance e i giornalisti di Wikileaks a cui l'ho dedicato. È il coraggio di rivelare la criminalità di Stato ai più alti livelli, dove non c'è protezione, non c'è una scorta, non è la criminalità organizzata che lo Stato può dare una protezione, no, in questo caso la criminalità lo commette lo Stato e quindi non c'è protezione da questo potere che io chiamo il potere segreto. È per questo che Giulia Nassance non ha più conosciuto la libertà, proprio perché ha colpito questo potere segreto non gratuitamente, ma quando commetteva delle atrocità, torture, massacre in Iraq e Afghanistan. Questo è il prezzo che ha pagato, non è più uscito per la strada all'uomo libero. Dalla redazione Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.